Attivazione, televisione Crash boom Che cosa ha fatto la tv? Crash boom La tv è appena uscita Su questa terra è nata Però Che differenza ha di questa? Che questa è intatta Questa è intatta Questa è intatta La televisione ha fatto crash Ha fatto boom Tecnico Perché è costantata Perché la mia tv Ha fatto crash boom 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 Crash 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 Boom boom Crash La sto che ho passando Perché Tecnico La mia tv Ha fatto crash boom Wash La mia tv Ha fatto crash boom 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 La mia tv Ha fatto crash boom Boom crash La mia tv Ha fatto crash boom 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 Ma queste pile erano della mia vita Ma la televisione non va da mo' a pile La mia si E allora perché? Che cosa è successo? Come fai la tua andare a pile? Perché? Ha fatto crash Ha fatto crash boom Perché ha fatto Ha fatto crash Boom Ciao Questo è il mio video belletto della televisione Ma scommetto che voi lo vedrete Anche in televisione